La parrocchia e il comitato di quartiere. Ci dovrebbe solo spiegare dove abita e noi arriviamo. Va bene, lo so e vi ringrazio. In questa Pasqua già strana di per sé cerchiamo di trovare un minimo di normalità. Procediamo. Grazie. Tanti auguri. Arrivederci. Tanti auguri. Comunque, guarda, ci criticano quelli di sopra, però in questa occasione abbiamo dimostrato. Signora, tanti auguri. Buona Pasqua. Qui in questo foglietto c'è scritto un po' le modalità con cui poterlo utilizzare. Speriamo che finisca presto tutto questo, ma speriamo bene. Speriamo bene. Tanti auguri. Buona Pasqua. Arrivederci. Grazie. Buona Pasqua. Così le persone vanno a fare la spesa. Certo. Allora, qui ci sono le modalità su come utilizzarlo. Quali sono gli esercizi eccetera eccetera. Questi sono i buoni che si presentano al momento della spesa, negli esercizi che hanno la locandina esercizio commerciale convenzionale. E qui a Pellaro ce ne sono diversi. Ho visto anche su internet. C'è il porto. Sì. La cosa positiva è che oltre diciamo ai genere alimentari, anche farmaci, anche ad esempio prodotti per l'igiene della casa. E insomma, speriamo che poi non servano più. Ecco, questo è l'auspire. Che finisca il più presto. Succede quello che succede. Comunque allora, qua c'è un po' una descrizione di quello che è. Questi sono i buoni. Che possa regalare un minimo di normalità Sergio a una Pasqua che tutto è tranne che normale. Speriamo di recuperarlo da una strada. Infatti. Per tutti. Va bene. Salutiamoci. Come ci si saluta ora. E di che cosa? Buona giornata. Buona Pasqua. Anche a te. I bambini sono stati sempre qua. È residenziale. Come fai? Hai capito? È residenziale. Stiamo facendo la sanificazione ogni giorno. L'operadorano tutti i sistemi di protezione. Buongiorno bambini. Buona Pasqua. Tanti auguri. Che bello. Assieme a questo dono che abbiamo realizzato con tanto amore, le auguriamo una santa Pasqua da parte di Maya, Bintu, Adama, Iob, Mohamed, Giada, Antonio, Miracle, Pis, Daniel, Desiree, Brian, Daniel e Salvatore. Grazie. Grazie. Quelle sono le uova. Sono tutte per voi. Prendetele come volete. Scatenatevi e prendetevene ognuna l'una. Tanti auguri e buona Pasqua. Grazie. Grazie. Prendete uno. Grazie. Grazie. Questo è bellissimo. La mettiamo al palazzo. Grazie. Grazie.